è andata giù vabbè poi chiamo il mio meccanico perchè ho la pula cioè su squalato ho la pula evidentemente sei una merda adesso chiamo qualcosina ahia cazzo che volo porco duro aiuto no si ahia dai è ribloccato è ribloccato si ok va bene allora ti voglio bene se mi ha salvato la vita ti voglio bene ti ha salvato la vita finendoti non devi morire mio figlio poteva morire ma perché mi investite ma che cazzo ho fatto un fortino ho dovuto un fortino fra ma ho investito non ho fatto anche l'altro marcia mio guarda me fra guarda che fortino che ho fatto arrivo aspetta i la che ma donno vai calda bu ma eeesss Mi vuoi entrare a fare casino pure tu fra E' un fortino imprendibile Ahia cazzo Io tutto convinto lancio una granata Vieni di puttana Eh lanciamo i fumogini Ah io non ce li ho Vabbè lancio granate Va bene Fani imbalzano qua le granate Eh lo so Sono un terrorista Bra io sono un vero terrorista guardami Aspetta Oh cazzo aiuto Aaaaaah Che cazzo sei? Madonna fra quanto l'ho Davvero? Si Ma con la voce o col personaggio? Ah proprio col gioco Ma no no perché salgo in macchina? Ah io per salvo io Voglio mettermi in questo Anche io mi devo cambiare stile Io mi metto questo va bene Ma si dai Perché ti metti la polizia affinché spari la polizia? Io sono davvero terrorista guardami Va bene adesso a chi sparo Mi metto Mi metto un terrorista allora Ora andiamo con le armi pesanti Hanno rotto i coglioni Ecco il terrorista Bra guarda mi sto facendo strage Oddio Oh riesci a chiamare qualcosa di armato Con il cui scappare da voi No bisogna uccidere il tipo a dentro Ah ok Lo tiro fuori io l'armato adesso Ok Non prendere la mini Che non so che vuoi prendere quella Oh cazzo vuoi questo civile? Nooo Occhio civile forse Eh apprende Sto morendo Eh mettiti dietro Ti copro Coprimi merda Stiamo facendo la casa di carta Io sono fissato perché ieri mi sono fatto E troppo Ma riesce in noi episodio Cosa? Ma riescono in noi No stommare In uno dei episodi Quando riescono? Eh no E non lo so Perché ho iniziato a guardarla da poco Cioè sono già alla stagione 2 Però non so quando riescono Madonna Io vorrei provare a formi completo Proviamo a prendere tipo le tute da lavoro Ci sono uguali a quelle della casa di carta No però no Eh io voglio Ma stai a cosa facendo a casino tu? Io si Aspetta un attimo che arrivo prima Vuoi che sto a coprirti? Vai 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 Tronzi di merda Eh lei spedì Oh si calano Si calano Si calano Si calano Occhio 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 No Coppettola da terrorista non ce l'hai Eh io ho questo Ah potrei mettermi questo qua o no? Aspetta Il col mio è un terrorista Questo? Oh va bene No Assolutamente no Che fai Questo è già il massimo Questo è già il massimo Questo più ci fa starci Cazzo Beh dai ci sta Nah Prato qua lo ricarica mai comunque Non c'è Ah però aspetta cosa chiamo Che ha Allora va Non c'è No c'è Oh No c'è 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 Basta, 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 sto morendo Ci sono le scale, no? Cazzo Arrivano gli SWAT Cazzo Ok, cosa è l'ora? Guarda, ma prima Io prima di installare GTA sentivo Tutti dicevano 5 stelle arrivano i carri armati Ma non so C'è Vero, anch'io Eh, ma perché non arrivano i carri? Ah, io Cioè, secondo me l'hanno pensato tutti ancora prima di conoscere bene GTA Secondo me, tipo, hanno visto in quel porto e ho detto Beh, che a 5 stelle è arrivato il carro armato E pensavano forse... Beh, la sensazione del barrage La barrage è più alta A pizzi Eh, ti hanno visto, non stiamo morendo Eh, di un Fav Allora, decidi, barrage o di un Fav? Barrage, barrage Aspetta Scusa, un attimo È un'arma terrorista quella? Mi viene appena il cazzo e ho chiamato un attimo carattretti per spostarla Ah, anche Ma cosa fa una cosa? Guarda Guarda Guarda, quanto ti fa presso di me Ok, adesso è ballato l'audio Porca troia fanazza, aspetta Guarda, si stanno pusciando male Lo so, soltanto sì A me si è ballato l'audio degli spari Fra, io vedo sparare ma non sento l'audio dello sparo Io prima, ma devi morire Con questo lo sento, con questo invece no Cazzo, fra Ma tipo se muori, tra E mi vai a prendere il barrage Vai, soldato, vai Fai il vero all'accusare Dov'è? Dimmi, dimmi dov'è È tutto a destra Tutto a destra? Tutto a destra, lo vedi alla fine della strada Vai, soldato, vai Ahia, mi ha investito un civile Che stronzo Eh, vabbè Mi sa, sono morto con la camminaria Doversi vedermi Arrivo Sento, il mio veicolo è stato sequestrato Col mio veicolo è dietro di te, vabbè Non è che è entrata la polizia fantasma Ma perché Il veicolo quale, scusa? No, il mio E come cazzo poi è che è sequestrato il veicolo? Dov'era, scusa? Non so Eh, era dietro di te Quanti cazzo sono Arrivo, arrivo, aspetta, 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 aspetta Guarda che se mi hai messo la moto Oh, vedo tu Oh, che figo Ah, era la moto che tu vede Vedo tutta la polizia Sì Stai vedendo tutta la polizia Gli suota andare dall'altra parte Fissi Arrivo Stai venendo con la moto cross Ecco il barrage No, no, non qui Fra, aspetta Quando ti dico io esci Eh, ti potevi venire qua con la mitagatrice Ti potevi entrare comunque qua dentro Ad entrare Eh, lo sto facendo già da qua Ti sto liberando un po' di spazio Prova ad uscire Io ti, io sparo Fra, forse No, devi venire tu Riesci proprio di corsa No, tienimi non tutti gli elicoteri No, devi guidare il barrage Fra Devi vittre qua del tuo barrage Ahia, cazzo Cazzo Fra, entra qua dentro Con quella merda Non posso guidarlo, cazzo Aspetta Esisti Ok, vai Eh, no, tu, no, tu Cazzo È pieno di Oh, non riesci proprio a venire te No, io no Non posso Me li datti Ok Supporti in arrivo, signore Entra qua dentro, cazzo Supporti arrivato Ok, tira, tira, tira Devi essere un muro Aiuto Cazzo Sì, vanno così Tanto Non riesco Non riesco a entrare Quanta cazzo Ok, vai, 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 vai Vai, vai, vai Eh, non posso salire Cazzo No, merda Cazzo È difficile Perché è proprio pieno Dove Dovremmo chiamarti Pincorra Se tu vieni da me Se ti poto vieni da me Eh Io salvo in macchia Tu sali dall'altra parte E l'ora lì è possibile Fattibile la cosa Ma se tu tu non vieni da me Adesso subito Veloce La cosa non deve Per un cazzo Fattibile Fattibile Perché stanno Allo sparato Sono qua Ok Sali 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 Come minchia Ti sei messo Lo sto cazzo Aiuto Aiuto Aià Dove sei Sono salendo Sono salito Sali Sono dentro Fuoco 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 Via 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 era meglio venire col tipo col sublimidato c'è pochissima vita e l'inventario Ok Cazzo Peccato che abbiamo nullato un minifilm Cazzo perché se è stata una cosa bella Peccato che abbiamo nullato un minifilm Quello del Dei farle anche tipo una moto Potrei fare una più terroristica No tu rimarai sempre il mio bianco Bastarda Eh no però ne faccio una mia E dopo mi alleo con te